Me ne frego Achille Lauro, invece qui con noi è tornato a trovarci Diodato Ciao Ciao Molto bene Tu Bene, bene, bene Numero uno nella classifica di ieri sera della sala stampa Cosa provi in questo momento? Beh, sono contentissimo perché comunque ricevere apprezzamento è sempre bello So bene che è una classifica provvisoria Comunque che fa parte di tutte le classifiche che abbiamo visto in queste sere Quindi bene, sono felice ma so che stasera poi c'è la gara quella vera Infatti volevo chiederti rispetto all'altro giorno quando ci siamo visti Che tra l'altro non mi ricordo più che giorno fosse Perché qua si perde la connessione del tempo Potrebbe anche essere ieri, per quanto ne sappiamo noi Comunque volevo sapere com'è la sensazione rispetto a questo festival e alla tua esibizione Sono molto contento, sono molto contento perché ho avuto modo di portare me stesso Sotto tanti punti di vista perché mi sono anche divertito tantissimo il giovedì Anche lo vedi che ho difficoltà Il giovedì con le cover, con i nazilli, 24.000 baci Ho tirato fuori il rock and roll che mi scorre nelle vene E che non ero mai riuscito a portare su questo palco E quindi ho ricevuto tantissimi apprezzamenti Questa poi è la cosa più importante L'ho già detto ma vogliamo essere tutti un po' compresi, capiti, amati Quando ti succede rischi da una parte di affezionarti troppo a quell'ondata d'amore Però è bello E poi qua c'è o quello o la tempesta Quindi in generale non c'è una via di mezzo Per cui complimenti Grazie A che ora è la tua convocazione stasera? Stasera dovrei essere... Allora è stato bello perché ieri ho detto alle 11 E poi sono andato alle 12 e mezza Ah vabbè ma quello lo sai devi sempre prenderti un po' Quindi dovrei essere intorno alle 10 e mezza Ah vabbè è un orario umano Non mi ricordo bene perché me l'hanno detto Mi hanno fatto vedere prima una scaletta non so se è provvisoria o definitiva Quindi magari lo comunico dopo e sarà sempre un po' relativo Lo dico già da adesso Ma sì perché insomma magari potrebbe non so scappare qualcun altro Esatto Stavo per dire potrebbe succedere qualsiasi cosa Gente che sparisce eccetera E quindi sai si accorciano i tempi No no io volevo sapere anche se la tensione è un po' scemata in questi giorni Rispetto alla prima volta che sei salito su quel palco Quest'edizione Un pochino sì però comunque ogni sera è proprio diversa Cioè è un po' per la questione cover che era proprio tutt'altro Certo E poi si ritornava a fare il brano inedito E quindi di nuovo dovevi rientrare in quel mood lì Questa sera poi è la finale E comunque ti mette quella tensione addosso Quindi domenica ci si dice Domenica sera mi rilasso con una bella pizza E sto bello sereno Grande Diodato Grazie per essere tornato Grazie a voi Ci ascoltiamo Fai rumore Grazie Grazie a voi Ciao